Mercoledì prossimo un'iniziativa pubblica del Partito Democratico Locale con Nicola Zingaretti. Il 5 settembre alle 17.30 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibioni si terrà un'iniziativa pubblica del Partito Democratico Cittadino a cui interverrà il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'incontro verterà sui rapporti tra l'Aquila e Roma, l'Abruzzo e il Lazio. Sarà l'occasione, ha spiegato il Segretario del Partito Democratico dell'Aquila, Stefano Albano, di discutere delle prospettive strategiche di alleanza tra la nostra regione, la nostra città e il Lazio. Sono tanti i temi che ci accomunano, penso alla questione delle aree interne e a quella della ricostruzione, passando dal grande tema delle infrastrutture. Non si potrà prescindere da una dimensione più strettamente politica. In una fase caratterizzata dall'arretramento e dalla difficoltà del PD, Zingaretti è stato rieletto Presidente della Regione Lazio. È il segno che a certe condizioni e con un determinato approccio la nostra area politica le carte regola per ripartire. Il Governatore del Lazio è sceso in campo candidandosi al segretario al prossimo Congresso Nazionale Dem, come si sa.